Che vi sia un'abissale differenza tra cristianità e islam è un dato di fatto, ma come sempre avviene nella storia, le differenze non escludono i meticciamenti, gli intrecci, i rapporti, le relazioni. Quando mai? Anzi, una differenza anche abissale, riconosciuta e vissuta in modo maturo, comporta trasformazioni della tua identità, comporta arricchimenti della tua identità, ma bisogna sapere che vi sono delle differenze abissali, delle differenze abissali che riguardano di nuovo il teologico, ma dal teologico poi ci diranno in tutte le tradizioni, non abbiamo qui il tempo di spiegarlo, ma senza la differenza teologica abissale che divide cristianità e islam non si capirebbe niente della scienza occidentale, della filosofia occidentale. Quindi certo che vi è quella differenza, poi questa differenza deve essere, ripeto, deve essere presentata in modi e forme tali che permettano il riconoscimento reciproco, e ciò è del tutto possibile. Non è scritto da nessuna parte che il riconoscimento della differenza debba produrre odio e inimicizia. Perché? Perché non può produrre invece questo riconoscimento, arricchimento della tua identità, comprensione migliore di chi sei e maggiore curiosità anche nei confronti del prossimo, dove curiosità non è una parola vana, curiosità è una bellissima parola, perché curiosità è la stessa parola, è la stessa radice di cura, essere curiosi vuol dire avere cura dell'altro. Quindi bisogna lavorare così senza cercare assolutamente nessuna confusione. E' l'anticristo che va in cerca di confusioni, di rendere tutti indifferenti, tutti uguali, beh tu dici questo, io dico quell'altro, vabbè cosa cambia, dai, avanti. Questa marmellata new age, perché qui siamo in un mondo in cui c'è o addirittura ormai di nuovo xenofobia, oppure marmellata new age. E' tutto uguale, tutto indifferente, una cosa vale l'altra, Dio c'è, non c'è, boh, chi se ne frega, avanti, no? O è così, o se no odio. E' pazzesco, è un Bob impazzito che sbatte a destra e a sinistra e corre così alla rovina. Analizzare le differenze e una volta poste le differenze vedere ciò che unisce e vedere anche se non trovi ciò che unisce ciò che rende interessante il tuo rapporto con l'altro. Proprio anche in forza della sua diversità. Perché non è possibile questo? E' possibilissimo, basta che oltre a pensarlo lo si pratichi. E di nuovo è una possibilità che è implicita anche nella nostra teologia, perché la nostra teologia non è soltanto, cioè la nostra teologia, la teologia della cristianità non è soltanto le crociate. Perché in parallelo alle crociate, che sono un fatto molto complesso, in parallelo alle crociate c'è anche San Francesco che va in terra santa. Insieme al crociato ci va San Francesco e cosa va a fare San Francesco? Predicare il verbo, dire la sua. Annunciare il suo verbo. Lo annuncia. Lo va a convertire, annuncia il verbo. Poi non converte lui. Sarà il Signore, la grazia divina che converterà il Saladino. Non sarà Francesco, Francesco lo sa bene. Ma devo annunciare la mia parola, devo, ho l'obbligo di dire cosa penso io. Senza alcun compromesso dico ciò che penso, ascolto ciò che pensi tu e vediamo. La differenza è radicale, è abissale. Bene. Ci salutiamo, ciao, ci odiamo, ci detestiamo, ci combattiamo, ci facciamo le guerre. No. Sviluppiamo questo discorso, procediamo nello sviluppare questo discorso in modo tale che proprio il riconoscimento della differenza diventi un elemento fondamentale delle nostre identità. Io sono io e nello stesso momento che sono io, non sono tante altre cose. Io. Io non sono B, C, D, E, F. Io. Sempre io. Ho in me questo non sono l'altro. Se lo ho in me, allora non c'è la guerra. Ma se quello che non sono io è il mio nemico, allora ci può essere soltanto la guerra. Se io non assumo in me questa alterità e sta lì contro di me, allora la possibilità che questo rapporto diventi pura inimicizia è naturale, è normale, è una conseguenza ovvia ed è di fronte agli occhi di tutti quotidianamente.